Ma oggi anche fuori dalla procedura ci hanno già avvisato che saremmo licenziati a partire dal 9. Siamo qui insieme ai lavoratori a sostenerli perché si vogliono riprendere l'azienda. Un'azienda che è stata ceduta a un euro, un prezzo sociale, un prezzo che era finalizzato al mantenimento dell'occupazione. Ma in realtà questo non è stato, anzi siamo tutti fuori. Si sono liberati dalla zavorra, un territorio indifferente, rassegnato. Le istituzioni hanno aspettato che si arrivasse al licenziamento. Ce lo riprenderemo. La provocazione dei lavoratori è tu te lo sei preso a un euro, ti diamo 62 euro. Ci guadagni 60 euro. Saremo qui, sosterremo i lavoratori, saremo alle 12 all'ESA per parlare con la Regione e poi saremo al Ministero. Non firmeremo mai un accordo che non veda attuata la delibera affinché la Regione si riprenda l'azienda e la dia a un imprenditore degno di questo nome. Grazie.